E' stato subito un bagno di folla per Back in Time, non solo a Retini ma anche tanti turisti per le vie del centro e nelle location scelte dal comune di Arezzo insieme all'assessorata a grandi eventi guidato da Marcello Comanducci e dagli organizzatori del festival che racconta il tempo e la storia in quella che è una delle manifestazioni più grandi a livello europeo. Da Piazza Grande al Prato, dalla Fortezza con lo spettacolo di Lindo Ferretti, i maestri artigiani in Piazza della Libertà e poi dame, cavalieri, spadaccini, sbandieratori, accampamenti, Arezzo ha iniziato a respirare l'atmosfera dei secoli passati dal Medioevo al Rinascimento partendo dalle origini etrusche e romane. Spettacoli e intrattenimenti ad ogni ora a partire dalle 18 e dureranno fino a domenica secondo il calendario pubblicato. La maggior parte della folla sembra essersi riversata nella parte alta della città, almeno nella prima sera, dove anche le guide turistiche e il gruppo Astrofri hanno avuto un gran numero di pubblico rispettivamente, per scoprire i segreti della restaurata Fortezza e della mostra di timer di grande atmosfera lo spettacolo al tramonto di Lindo Ferretti, con i colori del cielo che hanno composto un quadro bellissimo completato alla location più amata dagli aretini. Da segnalare che per la grande folla l'ingresso alla Fortezza è stato contingentato dagli addetti ai lavori che hanno fatto entrare un po' di persone alla volta per evitare sovraffollamento. Per questo all'ingresso si è creata una fila di persone in attesa di entrare e per le giornate di sabato e domenica è atteso il bis.